buongiorno a tutti ragazzi e ragazze bentornate sul mio canale scusate l'assenza ma ultimamente faccio veramente fatica a conciliare il tempo libero con gli impieni lavorativi e non quindi cerco di farmi vedere per gli appuntamenti più importanti o quando ho qualcosa da dire o qualcosa da farvi vedere in questo caso ho un bel po' di cose da farvi vedere se mi seguite su instagram avete già visto che oggi che è domenica sono andata a fare un giro da tigotà e quindi ho fatto un po' di rifornimento di cose che mi servivano ma ovviamente ho preso anche qualche extra che è una coccolina in più male non fa ma vi volevo farvi vedere anche altri acquisti perché non voglio farli accumulare per poi non ricordarmi cosa ho comprato cosa che può capitare che con questo caldo sono un po' fusa e poi non voglio comunque accumulare le cose e tenerli lì da parte ma andarle a sistemare direi di cominciare subito sono passata in una farmaceutica durante la settimana non è di mi amo insomma mi hanno dato questa bustina per prendere i solari per il corpo un solare in particolare perché ieri che è stato sabato sono stata in piscina quindi io non avevo un solare per il corpo e mi serviva assolutamente visto che c'erano 35 gradi e sono stata tutta tutta la giornata avevo bisogno di protezione ho approfittato a prendere qualcosina perché c'erano veramente tantissimi sconti allora il solare che ho preso è questo gel latte fondente applicazione su pelle bagnata e asciutto c'era l'offerta di questo solare insieme al suo dopo sole che è il latte dopo sole appunto sono 100 ml invece questo è 200 ml l'ho già provato infatti sono già a metà anche se sono stata solo una giornata quindi questo qua mi durerà un'altra giornata in piscina e poi dovrò correre a comprare un altro mi interessava questo fatto che fosse un gel fondente che si potesse applicare sia sulla pelle bagnata che asciutta quindi è molto molto comodo come prima battuta mi è piaciuto un sacco è molto confortevole si assorbe subito lascia quella leggera pattina glow sul corpo ma poi si assorbe e vi lascia la pelle oltre che protetta e idratata quando lo finirò o quando vi farò un video sui solare ne riparleremo il dopo sole non l'ho ancora provato perché ho aperto un altro la combo costava 14,90 euro nella farmacia fisica poi tanto che c'ero lì ho preso questo sempre prodottino dopo sole che era molto molto interessante SOS balsamo dopo sole speciale scottature allinisce istantaneamente sempre di Vichy l'ho pagato 9,99 euro ipolargenico per pelle sensibile sempre ideal capitel soleil mi ispirava moltissimo perché amo i trattamenti post esposizione solare quelli ricchi perché avendosi una pelle che non si scotta mai anche quando facevo la selvaggia che mia madre non mi ha insegnato la cultura del solare quindi quando ero più giovane tra virgolette andavo in piscina non mi mettevo il solare non mi sono mai scottata e neanche arrossata però avendo la pelle molto molto delicata comunque si secca particolarmente nei giorni successivi quindi ho bisogno di qualcosa più ricco anche per il corpo e questo mi sembrava un'ottima alternativa lo comincerò ad utilizzare e lo otterrò perché poi quest'anno andrò anche al mare e mi servirà sicuramente poi c'era questo prodottino che era 9,90 euro in una cesta, tutti i prodotti diversi mi ispirava tantissimo questo prodotto di Lirac, balsamo riparatore anti-age per il viso e decoltè all'interno contiene acido ialuronico, omega 3, omega 9 e il peptide attivatore di abbronzatura sono 40 ml, penso che 9,90 euro sia stato un prezzaccio da non lasciarlo assolutamente in quella cesta non è un prodottino nuovo perché questo l'ho già visto anche online anche questo l'ho provato ieri e devo dire che mi è piaciuto molto è un balsamo fondente però si assorbe molto molto velocemente va veramente a lineare la pelle, la lascia morbida, elastica e un po' rinfrescata secondo me, no, senza secondo me va tenuto ovviamente frigorifero perché dice che ha un effetto crio e lo proverò a tenere nel frigorifero il prezzo, aiuto, il prezzo mi è sembrato ottimo e quindi l'ho preso in seconda battuta sono passata ieri dopo la piscina perché ho avuto una reazione al cloro nella piscina non mi è mai capitato in vita mia però secondo me in questo periodo storico della pandemia ovviamente il cloro è quello che disinfetta di più quindi ci hanno messo il doppio di cloro non so, questo giro è stato così prossima volta mi sa che mi laverò nella candeggina mi è venuta un'irritazione all'occhio pazzesca era rossissimo e quindi non riuscivo proprio ad aprire gli occhi sono passata in velocità a prendere le gocce questi di veleda che contengono acido ialuronico e la malva sono naturali, io volevo delle gocce, lei mi ha dato questi sono naturali e tanto meglio sono comode perché sono monodose perché lei mi aveva chiesto se soffro di irritazioni agli occhi occasionali oppure sempre, ho detto occasionali quindi lei mi ha detto ti do queste monodose così non ti apri un boccettino e non sai se le utilizzo o meno questo è costato 11 euro per il tanto che c'ero lì ho preso un altro dopo sole pro repair complex crema linitiva per pelli sensibili e intolleranti di Bionic ho preso specificatamente questa perché lo utilizzo come una maschera dopo sole per il viso infatti ieri sera l'ho utilizzata e mi è piaciuta moltissimo ovviamente potevo utilizzare anche una maschera idratante eccetera eccetera però io è da anni che utilizzo i prodotti diciamo solari cioè i solari dopo sole sul viso come maschera perché sono più specifici e sono più linitivi e più rigeneranti ovviamente è una cosa che faccio io non dovete farlo per forza voi ma ho preso proprio questa perché Bionic è molto attenta alle allergie quindi fanno i prodotti veramente innocui per quanto riguarda la sensibilità cutanea e devo dire che mi sono trovata divinamente in veste di una maschera per il viso veramente ottima post esposizione solare e mi sono trovata benissimo l'ho pagata anche questo 9,90 euro e poi in farmacia mi hanno dato diversi campioncini di questa nuova linea di Codalie mi hanno dato anche il siero che io ho già utilizzato e altri campioncini di crema che ho utilizzato poi vi saprò dire se mi sono fatto un'idea oppure no poi mi è arrivato un ordine che avevo fatto da YesStyle sapete vi ho già spiegato che a volte acquisto su YesStyle per necessità a volte devo proprio soffrire dei buoni che mi vengono comunque trasformati perché le persone che ringrazio ancora che acquistano grazie al codice sconto legato al canale la provvigione si trasforma in uno sconto che va comunque consumato e allora ho acquistato sia utilizzando lo sconto sia aggiungendo qualcosa di tasca mia ho acquistato 5 prodotti, vabbè, non so contare ho voluto provare questo All Clean White Clean Foam di Emish l'ho pronunciato giù, è Emish è un marchio che adesso comincio a sentire parlare molto molto spesso sia su Instagram che su Youtube soprattutto da Marina del canale Rasomasca Beauty lei ama tantissimo lo struccante burroso infatti io ho preso sia il detergente sia lo struccante burroso di Emish per abbinarli insieme da utilizzare magari in estate io adoro struccarmi con i burri, li utilizzo praticamente tutto l'anno salvo le giornate quando fa veramente calo utilizzo proprio l'olio struccante ma in generale faccio sempre sempre la doppia detersione poi ho preso due tonici che avevano delle boccette bellissime del marchio On Think ovviamente giù nell'info box vi lascerò il link al prodotto ricordatevi che tutti i link di E-Style sono affiliati ho preso, guardate che meraviglia questo tonico ha niacinamide al 10% sono 150 ml di prodotto non vi sto qua a dire i prezzi perché quando l'ho acquistato e mi è arrivato già da un bel po' era in super super offerta e poi ho acquistato anche questo da 300 ml che all'interno contiene 80% di idrolato di Artemisia e centella asiatica al 20% mi piacciono tantissimo anche di questi ho sentito parlare molto su Instagram poi fanno delle foto bellissime e ha all'interno anche Hot Tuna Cordada Extract guardate che meraviglia ovviamente il pack è in plastica però è veramente stupendo e mi ispira un sacco sapete che io i torni ce li consumo quindi vabbè a male non vanno e poi ho acquistato due siere anche questi li ho visti da Marina ma mi ricordo in passato avevo utilizzato una maschera di questo marchio e qualcuna di voi mi ha detto che è un marchio buonissimo che sfrutta delle piante molto molto particolari e sono super super all'avanguardia quindi tanto che c'era ho detto prendo due piccioni con una fava e prendo due sieri ho preso il glow serum al propoli e niacinamide il marchio ovviamente è questo io adoro la propoli e adoro la niacinamide quindi ragazzi poi adoro i sieri non mi sto qua a dilungare e poi ho preso l'altro che li parli non avevo letto che conteneva la bava di lumaca e infatti questo all'interno è un repair serum mentre questo è un glow serum il repair serum all'interno contiene ginseng come a tipo principale ma anche la bava di lumaca e io l'ho guardato quando mi è arrivato purtroppo lo proverò comunque a utilizzare sul viso e vedere se mi dà fastidio in caso mi desse fastidio lo utilizzerò comunque sul collo e dei coltè perché comunque sono zone altrettanto delicate da trattare che si segnano facilmente e quindi una coccola in più non guasta ero molto molto curiosa tra l'altro erano scontate tipo a 60% io ho pagato veramente poco forse ho aggiunto tipo 15 euro al mio buono per tutto sto ben di Dio fatemi sapere se avete già provato questi prodotti datemi qualche feedback e ora ragazzi passiamo al succo di questo video la bustona di tigota avevo proprio voglia di andare a fare un giretto di svagarmi un pochino perché ho avuto una settimana veramente pesante troppo faticosa, calorosa insomma e quindi mi sono fatta un po' di coccole ma ho preso anche cose utili per esempio ho preso 6 bicchieri questi qua che mi servivano erano in offerta 1,99 euro i miei bicchieri o sono usurati o gli ho rotti non sono particolarmente delicata quindi ogni tanto urge un cambiamento poi per la casa ho preso questo a proposito non so se ve l'ho detto da tigota ci sono i sconti giolli che voi li avete direttamente sulla tessera non c'è bisogno di andare a ritagliare quando andate alla cassa potete prendere un prodotto e dire su questo prodotto applico il 30% perché c'è il 30% su make up se non sbaglio occorre dalle persone i detersivi quindi ottimo io ho preso il Napisan freschezza eucalipto detersivo igienizzante odor stop non che mi servisse un igienizzante ma ormai qualsiasi detersivo all'interno contiene l'igienizzante questi sono 23 lavaggi attivo a 20 gradi quello che sto utilizzando adesso che è igienizzante non mi piace perché sa di antibiotico e non va via è talmente persistente che mi fa venire la nausea che neanche una morbidente riesce a smorzare quell'odore e poi ho preso Mon Amour Fresh Blue questo qua gigante 26 lavaggi detersivo extra profumato più forza al profumo del pulito dice nuovo ma io so benissimo che non è nuovo perché lo vedo consigliare sul web già da tantissimo tantissimo tempo poi ho preso due cotoncini sono il coton fiocco ho preso questo jumbo di cotoneve e poi sempre jumbo di cotoneve sono altitri oil e anche questo altitri oil non ci ho fatto neanche caso 128 maxi bastoncini doppia assorbenza 100% di cotone biologico e poi abbiamo preso perché sono andata con il mio fidanzato i cerotti classici che quelli servono sempre perché ogni due per tre qualcuno si fa male restando il tema mio fidanzato per lui ho preso Gillette Sensitive Cool questo gel da barba lui piace molto il gel piuttosto che la schiuma e l'abbiamo terminato perché lo utilizziamo insieme io per depilarmi e lui per farsi la barba e poi abbiamo preso anche Gillette Fusion 5 ultra idratante sempre gel da barba era nostra offerta 1,99 euro poi ho preso sempre per la casa che erano in offerta aiuto ah no abbiamo anche un altro cerottino i panni della Lisoform perché ci sono i punti della coppia i panni della Lisoform salvatini igienizzanti detergenti ho preso questo a limone che era 1,99 euro questo a versione l'oceano sapete che li tengo nella postazione del bagno per pulire quando faccio le maschere così anche dopo avermi lavato i denti perché poi rimane qualche sporco e sempre questa all'oceano ne ho preso 3 c'erano anche altre versioni ma queste erano in offerta e questo ho preso poi sempre per la depilazione finalmente mi sono decisa di prendere questi della Wilkinson nutrienti per pelle secca quelli che all'interno contengono il sapone vedete mi sento sempre parlare benissimo quella di Balea che avevo acquistato purtroppo è finito e non avevo voglia di andare al dia ma prendere le ricariche questi sono 4 lame però il sapone mi sembra un po' più spesso la saponetta che c'è dentro e quindi ho voluto prendere questi ho preso tanto che c'erano anche le ricariche allora questo l'avevo pagato 5,99 euro e questi 7 euro come ricariche qua all'interno troviamo la base e una ricarica e qua troviamo 3 ricariche quindi dovrebbe durare un bel po' e sono comodissime quelli con il saponcino dentro per me è stata la svolta adoro invece per le emergenze se vado fuori se vado al mar se devo fare qualche ritocco insomma ho preso Xtreme della Wilkinson Beauty Eco Green 4 lamette 3 lame forse sono con la plastica riciclata e anche il bastoncino è a 95% di plastica riciclata tutti i rasoi erano in strati tra offerta poi geno orale anche qui abbiamo fatto mambazza perché c'erano super offerte ho preso i dentifricci della Oral B che mi sto trovando da Dio sto usando quello purificante per le gengive e ho anche quello invece lenitivo ho voluto prendere questi gengive smalto repair e ne ho prese due Oral B per me è stata una buonissima scoperta e poi come novità di equilibra ho preso il dentifriccio al cocco e menta preferita bianco naturale perché comunque il cocco è uno sbiancante naturale e effettivamente si nota la differenza quando si usa un dentifriccio al cocco non costano poco però a me durano tanto perché ne ampro tanti e vado a seconda delle esigenze delle mie gengive quindi a me durano e poi ho preso anche zenzero e rosmarino anche questa è una novità dentifriccio freschezza intensa e ho voluto anche abbinare dei collettori perché no a me quelli di equilibra piacciono non li prendo spesso però mi piacciono infatti ho preso questo al cocco bianco naturale magari utilizzandoli insieme al dentifriccio ad abbinare ho preso anche freschezza intensa con xilitolo estratto di zenzero sempre di equilibra anche questi non costano poco ma vi ripeto volevo togliermi qualche sfizio poi ho preso queste due non so come si chiamano comunque da ghiacciare perché li devo mettere nella borsa frigo dove metto i miei solari quando vado in giro i solari li tengo sempre a fresco altrimenti si alterano la mia borsetta è piccolina quindi ho dovuto prendere questi ghiaccini piccoli perché mi servivano effettivamente e direi di cominciare col beauty che cosa mi si è attaccata alle mani allora l'altro giorno avevo visto la pubblicità di deodoranti nuovi della nevia che sono quelli al magnesio e infatti erano in stra offerta anche da tigotà 2,99 euro e ho preso questo magnesio dry senza sali minerali se non sbaglio o senza traspiranti non saprei ragazzi una cosa c'era senza senza qualcosa quindi ho preso questo che era un roll da 50 ml e ho preso anche questa versione la utilizzeremo sia io che Andrea e poi mi sapò dire poi ho preso anche il dry comfort antitraspirante sport e questa sarebbe una cremina perché quando vado a correre ragazzi è vero che si pezza con il caldo però poi mi viene l'irritazione con il top sportivo e quindi mi dà fastidio poi non riesco mi sento limitata quindi mi hanno consigliato di prendere un deodorante in crema questo è specifico per lo sport e anche questo è super super offerta poi mi sono recata ad attiguità perché mi serviva uno struccante bifasico ora nell'altro video delle scoperte vi avevo detto che non uso lo struccante occhi bifasico perché uso il comicellare ed è vero solo che l'altro giorno andando alla cop mi sono sbagliata e ho preso il mio mascara preferito quella della Maybelline in versione waterproof non che a me dispiace perché comunque rimane sempre un mascara che per me vale tantissimo però ovviamente un acqua micellare non lo strucca benissimo quindi sto già terminando quello di essenzie che fortunatamente strucca anche molto bene il trucco waterproof anche se avevo qualche dubbio perché è comunque delicato però sta finendo e mi serve perché è quello il mascara che utilizzo e quindi ho preso acqua micellare bifase viso occhi e labbra anche sul makeup waterproof con olio di zubaki dell'alicia comunque struccanti oleosi costano un sacco non ho preso quella di garnia perché le ho già provate e non mi piacciono sono 250 ml di prodotto e poi ho preso questo famosissimo della L'Oreal struccante occhio waterproof costano un botto 3,99 euro per una cosa così piccola però mi serve e non uso adesso i struccanti cioè l'olio proprio sulle ciglia perché poi mi si appanna mi va dentro il residuo insomma per strucco waterproof mascara waterproof ho deciso di usare i struccanti waterproof e poi ho preso una novità per me perché io non so da quando è uscita un po' che non non è vero non è che ho un po' che non vado di tiguità però non ci ho fatto caso ho preso di Edge Edge bene 40 gradi si fa sentire Age Active gel detergente idratante delicato viso e occhi per pelli normali sensibili con triplo peso di acido ialuronico della Matte io ho provato l'acido ialuronico in passato e mi era piaciuto tantissimo ed era scontato poi ho preso il tonico anticedimento antifatica per pelle luminosa con vitamina C vitamina B5 di L'Oreal che volevo provare da tantissimo quindi l'avevo preso 200 ml di prodotto si vede che mi sono voluta portare una pocolina ma poi ho preso anche due sieri utilizzo un po' tutti i tipi di sieri sia da farmacia che coreani che bio insomma anche quelli da supermercato ogni tanto mi attirano ho preso il siero alla vitamina C concentrato con vitamina C a 330 mg più alfa idrossidi acidi complex illuminante protettivo della Cleania questo costava 9,99 euro ed è consigliata da 20 anni e 40 quindi ci sto dentro allora l'ho preso perché mi ricordo che mi era piaciuto tantissimo mi erano piaciute tantissimo le ampolle della Cleania all'acido ialuronico non le ho ricomprate perché all'interno c'era veramente poco poco prodotto ma come siero ho dei bei ricordi quindi mi sono fidata del mio sesto senso e ho preso il siero alla vitamina C e poi grazie alla mia amica umonima Caterina del canale L'Angolo di Cate lei mi aveva segnalato che c'è il siero della matta alla vitamina C con prebiotici e quindi l'ho acquistato al volo su questo ho applicato il 30% perché costava 15,99 euro ho applicato allo sconto jolly perché comunque era il prodotto più caro che avevo preso penso non vedo l'ora di provarlo e vi farò sapere e la busta qui è terminata quindi vi ho mostrato tutto il mio shopping dell'ultimo periodo e lo shopping di stamattina fatemi sapere se avete già provato qualcosa soprattutto i colluttori di equilibra i denti freccia al cocco se avete già provato questi prodotti oppure sono solo nuovi per me insomma attendo il vostro feedback vi ringrazio ringrazio i nuovi iscritti non lo faccio mai ma non lo do assolutamente per scontato vi ringrazio perché mi iscrivete anche in privato siete molto molto carine e soprattutto importanti per me per il mio canale e per la mia sanità mentale vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima ciao ciao Grazie per la visione!